Un laboratorio sul paesaggio sonoro e audiovisivo urbano completamente dedicato al quartiere di Sanzisto a Perugia per capire come suona il presente e il futuro della zona per i cittadini. Si chiama a Mappa e sarà a cura dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci che dalle 5 al 13 maggio prossimi sarà operativa sul posto grazie alle sedi del Teatro Brecce e della Biblioteca Penna che la ospiteranno con gli studenti del corso di Etica della Comunicazione del Biennio di Brand Design Territoriale tenuto dal professor Moreno Barboni. Un'iniziativa che si realizza nell'ambito del progetto SCOSA Sistema Cultura Open Sanzisto Arte realizzato dal consorzio ABN con il coordinamento di Rene Velloni in parternariato con i comuni di Perugia e l'associazione I Rioni di Sanzisto con il sostegno della Fondazione Perugia. Referente per le attività di welfare culturale del progetto di quartiere è Beatrice Ripoli, direttrice artistica delle centro di produzione teatrale Fonte Maggiore. I lavori dell'elaboratorio intensivo procederanno ad una mappatura mediante riprese sonore, fotografiche, cinematografiche e video tramite tre gruppi dedicati condotti dai docenti, ognuno dei quali affronterà anche il tema della geografia umana e della memoria urbana tramite interviste concordate e sul campo nei luoghi vissuti dagli abitanti e dai personaggi del quartiere, ai quali si chiederà anche tramite i rappresentanti e gli archivi della comunità di prossimità di partecipare alla creazione condivisa del ritratto audiovisivo di un quartiere storico del dopoguerra, alla ricerca di un centro che potrebbe fungere da progetto pilota per altri interventi.